FIFA 18 FIFA 18 FIFA 18 Perché qua se mi esce Messi potrebbe uscire Neymar, Ronaldinho o qualcosa Quindi vediamo un attimino Se mi dà Messi tanta roba Messi non ce lo dà Andiamo di ATS Ci dà Neymar però non ci faccio intesa Bene iniziamo veramente alla grandissima Centrocampista Modric qualcosa Wow grazie veramente eccezionale Altro centrocampista Madonna ma chi mi ha visto che sto a fare questa sfida Prendo Gundogan che lo metto lì dove sta Müller Almeno mi fa un po' intesa Ci dà il Prugnetta, ci dà Nainggolan Prendo il Prugnetta Ok facciamo questa sfida Bene 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 Andiamo di terzino sinistro Un Felipe Luiz, un Marcello Giordino Alba va benissimo lo stesso Qui un bel Ramos Un bel non lo so ce ne stanno un botto Madonna che schifezza Prendiamo Premier League Che al massimo lo mettiamo dove sta il Prugnetta E fa un po' di intesa Prendiamo lui Ruiz Facciamo il cambio andiamo a più 15 Qui speriamo che mi esce anche un Valencia A sto punto non sarebbe male Mi esce Carvajal lo prendo Qui un bel Dekea Un Ter Stegen Un qualche Tozze Cagliardo No ci dà Dekea 93 però Lo prendo Dekea 93 Vediamo bene nelle riserve Ok qualcosa di buono Ce l'ha Uuuuh Dego Commeri Ci ha dato un Gullit No eccezionale Di più raga Prendo Petro 91 Siamo a 91 Siamo a 91 però ci vorrebbe Qualc'altra cosa di interessante Vediamo un po' Dai 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 ci serve più che altro La fase del centrocampo raga Perché sta messa veramente Veramente male La fase del centrocampo E dobbiamo vedere pure se troviamo qualcosa in difesa Che è quello che comunque ci manca Un po' Dai 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 Dacci qualcosa di interessante Che fino a mo' Uuuu Andanovic C'ho 95 addirittura Mazza che belli raga Dai il colo Bappé Ci ne ha un bappé 93 Madonna mia che giocatori ci sta dando raga Questi sono potentissimi Purtroppo non posso utilizzarli Perché non mi servono Però va bene Che ci fanno comunque alzare l'overall Pagli pure Non è male Facciamo così Mettiamo Neymar Siamo a 91 95 Secondo me a 92 ci arriviamo Però Dobbiamo vedere se non ci cala adesso Silva 92 Infatti ecco raga Ok più 3 92 98 Madonna raga Allora io così con Bappé Vado a 192 Però dovrei elevare appunto Cristiano Ronaldo Che è 95 Vediamo un attimo Vediamo un attimo raga Comentiamo Salah Siamo a 192 Oh mai dire mai raga Mai dire mai Attenzione Mai dire mai veramente Quindi Prendiamo Roberto Ecco caliamo a 191 Prima avete citato Che bel difensore Eh no Ci serviva un bel Sergetto Ramos Un bel Eh No 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 191 Siamo a gare del 191 Ma non so se io vado a mettere tante volte Cristiano Mi torna più o meno al 192 Vediamo un attimino Facciamo delle prove Niente ragazzi Facendo anche le prove Il primo tentativo È andato al 191 Perché purtroppo la fase difensiva Ha fatto cacare Ma andiamo a vedere subito Un altro Tentativo Ho anche questo qua ragazzi Con i tre difensori Ma Rischiamo Rischiamo raga Vediamo subito Ci da qualche cosa interessante Subito un bel Lionel Messi Eccezionale Andiamo con l'esterno e sinistro Tante volte Ti sbizzarrisci un pochettino Che ne so Allora 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 Oppure me ne vado su Martial Che a sto punto Premier League Ma sa che è meglio raga Però anche per il Ribery Vado con Martial Vado con Martial Perché non si sa mai Ats Se mi dai Cristiano Ronaldo 99 Ma da 94 Ma fa col prendo Ronaldinho Eccezionale ATD dai Anche Gareth Bale Non so Sterling Oddio ATT Ronaldo C'è Higuain Mi dai Mi dai Higuain 93 O c'è Griezmann E mi prendi Higuain A sto punto Mi hanno fatto un impegno Quelli incredibili Raga Centro campista Il prugnete accanté Todi Madonna Niente Ma che cazzo Di capelli c'ha quello Ma prendo lui Giusto perché Argentino e può fare In Tisalicollino Nel Messi Dai un bel Todi Un qualcosa Ci da Toni Kroos Va bene Toni Kroos Che vedevo di Però dai Piqué Ramos Godin Ok Godin ce l'ha dato Ramos E Piqué Dai 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 non fa Non fa Non metà Walker Che ci faccio con Walker Dai Forza Un entro Todi Toz Toz Oh Bene 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 Ci fa 21 Qui De Gea Ter Stegen Qualsiasi cosa Bassa che sia Ok Ter Stegen Sto dicendo Bassa che sia Toz Va bene Siamo 89 Raga Allora dobbiamo cambiare Assolutamente Il centrocampo Ma assolutamente Raga quindi Speriamo ci dia qualcosa Di interessante Qui prendo Pedro Che Facendo Vedo Fa un po' D'intesa Ma non fa Intesa Pedro Dai 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 Buateng Luca Raga Uuuuh Henry Kane Eccezionale Henry Kane Anche se qua mi fa più Iguain Perché giustamente Mi fa intesa Sto un token E lo metto qua 92 88 Raga 92 88 Vediamo se ci da qualche altra cosa No Ci da Marietto Gozza Che non ci faccio niente Liga Santander Che è il difensore Liga Santander Il difensore Devo prendere 81 Oh siamo a 93 88 Raga Magari Ma Magari Prendiamo Jimmy Muller 93 88 Oh qua c'è qualcosa di buono Garrett Bale Raga Garrett Bale Assolutamente 94 Garrett Bale Aspettate Aspettate Non momendo Aspettate Non momendo Allora C'ho anche Kane 96 Però lì Bale mi fa più intesa Quindi mi serve roba Della liga Allora Mané Mané lo prendo Che è 86 Vediamo se può servire Qualche cosa Ma Mamma mia raga Come siamo messi male Dai Uuuuh E che non lo prendo raga Ci fa più uno Ma sti cavoli Cioè ci leva uno Ma che non me ne fotte proprio E 97 Sempre ragazzi Mamma mia 97 Oh mio Dio Oh mio Dio raga Oh mio Dio Qua Stiamo un attimo Degenerando Con le cose 94 87 Boni un attimo Boni un attimo raga 93 Siamo tornati a 93 Mamma mia Qua è difficile Qua è difficile Comunque 93 87 Se siamo arrivati a 94 Abbiamo ancora un po' di speranze Andiamo con Gundogan Quanto non è facile raga Madonna mia Perché poi Ci fa salire bene 93 87 Però poi ci fa calare Che non ti da più niente E 92 Lo sapeva L'ultimi giocatori Mi fa calare a 92 Ma sei un pezzettino Di fanga ammuffito Fatelo dire Vediamo un attimo Qua come possiamo sistemare Qua andiamo a più 3 Proviamo a prendere un attimo L'allenatore ragazzi Prova a fare tanti cambi Ma non va a nulla Eh mi era capitato anche Vedi 92 96 92 97 Addirittura 92 97 Se io faccio il cambio E li metti qua in Sicuro mi arriva a 192 Però più di quello Non sono riuscito Cioè addirittura abbiamo Sfidrato il 94 Per un attimo Ho visto quel 94 Là davanti Mi sentivo un attimo male Che se noi facciamo così E qui mettiamo i qua in Vedi 192 raga Eh ve l'ho detto che era 192 Però se provo a fare qualche cambio Cioè vediamo un attimino Ah 90 Vedi qua pure non cambia niente Anche se io metto questo O dovessi mettere qualcosa Come difensore qui Quindi fare un cambio Sto provando a fare determinate cose Raga ma tanto Non verranno mai fuori Niente ragazzi Tentativo secondo Abbiamo fatto solamente Il 192 Adesso ci riusciamo Proprio a occhi chiusi A fare il 192 Mannaggia veramente per poco Perché quel che il 96 Anche se lo metto al posto di Quain Comunque mi rimane 92 97 Non mi fa dire niente Perché tra argentini Appunto Mi completano Mannaggia raga Ovviamente per poco Secondo me Se al posto di Gundogan Ci fosse stato Un Kanté Toti Oppure un altro Tots Del Qualsiasi Secondo me Ci riuscivamo proprio A occhi chiusi Perché con il fatto C'è stato anche Neymar 97 Raga Madonna mia Pure se ci fosse stato Secondo me Ronaldo 99 Ronaldo 95 Atti Boh ma bastava Veramente una carta Secondo me Vediamoci da un bel modulo Ma ovviamente Speriamo più che altro Che ci da qualche bel giocatore Che sono quelli più importanti Questo non è male Quindi probabilmente Prendiamo questo qua Raga Io rimango sempre con La sinistra e la destra Perché ci potrebbe dare Messi Ronaldo e cose varie Allora Mi prendo Hazard Che C.O.C. Può servire Vediamo subito un altro centrocampista Ci da Kanté Niente Ci da Toni Kroos O Pogba Prendo Pogba Dai che Ben o male Mi fa intesa poi con Però scusami Ma Kanté Ma dammelo Toti Davi un bel Kanté Toti Era tanta roba Alla destra Ma alla destra Mi devi dare Che mi devi dare Niente Io non volevo niente Alla sinistra Mi devi dare Madonna Dai non ce credo Ragazzi Barbosa Barbosa Che Che ha le metà Alla destra Alla sinistra Ma che mi hai dato Ma che schifo è Sta roba che mi hai dato Alla destra Alla sinistra Ma che è raga Dai continuiamo Difensore Qualche bel tozza Qualcosa Prendiamoci per token Altro difensore Una schifezza Vediamo Terse una destra Un Valencia A meno Portiere Oh Portiere forse Ci premia Ecco Beh ben meno Un bel deca 93 Ce l'ha dato Puoi darmelo Un 97 No eh Vediamo qua Ci da Kane O ci da Modric Io mi prendo Modric Sinceramente Qui ci da Di Bala O Neymar Mi prendo Di Bala Perché Di Bala Qua mi fa Intesa Che non è male Vediamo ancora Ci da Un Bappé Sto Un Bappé Ormai ce l'ho da sempre Ma tanto non ce faccio Per niente Il problema è quello A Obama e Young C'è tanta roba Lo mettiamo di qua E mi fa Più 9 E direi di prenderci Eh il terzino Adesso dovrei prendermi lui Per andare bene No? Giusto? Siamo a 190 Mo mi dovresti dare Messi Ronaldo Licone Ma dammeli separati Royce e Neymar No brutto maledetto Che tu mi dai insieme Ma che c'è Ma che giocatori Stai a dare Tutti insieme Ragazzi Non ha il digno Ronaldo No vabbè Ma non ce posso credere Ma mi linko i Savic E dammelo pure Tozze No madonna Non ci credo Raga 191 Correnato Il fenomeno 191 Però abbiamo messo Fermi Regà 192 Ma pensate Che cacchio Mi ha fatto Ma pensate Che cacchio Ho fatto Raga Sono rimasto No regà Lo giuro Cioè pure se non ce l'abbiamo fatta A sto tentativo Ma che squadra Mi ha fatto Scifori Cioè Lì per lì Ma che giocatori Mi hai dato Cioè tu sei un pazzo Mi dispiacerebbe pure Andare a sprecare Sta squadra Cioè Poi come vedete Mi ha dato lo schifo Più assurdo 190 addirittura Ma che squadra Mi ha dato Raga È un 191 Regà Bellissimo Nel senso Cioè mi ha dato Prende Cioè Qualsiasi cosa Mettiamo Giustamente Mi fa intesa Facendo così Purtroppo Non mi fa Neanche 100 Perché ho provato a mettere Il Pronto a mettere Company È 91 98 Però così Abbiamo comunque Il 191 Mettendo questo giocatore qua Penso uno dei 191 I più strani Che io abbia mai fatto Signori comunque Questo vi è terminato Ci abbiamo provato E nei primi tentativi 192 Poi addirittura Quasi Quasi 94 Non siamo riusciti a arrivare Per poco Per un qualche giocatore Però Ci stiamo avvicinando Se ne volete Tante volte Un altro di tentativo Per provare a fare Il 193 Mi raccomando Lasciate un bel like Cerchiamo di arrivare A 15 Mi piace Perché questa squadra Ragazzi Mi sono messo A veramente paura Me le ha dati tutti insieme A giocatori Se mi li dava Separati Abbiamo fatto il botto Proprio Questo vi è terminato Spero ovviamente Vi sia piaciuto Ci ho provato ragazzi Ma non ci sono riuscito Per poco Con i primi tentativi Ci riproverò Ovviamente Se voi volete Un altro video di questo genere Supportate Condividete Passate la pagina Facebook Instagram Trovate il link in descrizione Noi ci vediamo un po' Se potete A vostro giocare In un video Guardate tutto Nel prossimo video Ciao belli Noi ci vediamo un po' Noi ci vediamo un po' Noi ci vediamo un po' Noi ci vediamo un po'